Alla fine la piccola San Stefar, una società abruzzese di servizi sociosanitari, con sede anche a Termoli, la spunta sui giganti della sanità e della ricerca scientifica Humanitas e Neuromed e si aggiudica il 90% delle quote societarie del gemelli Molise per 33 milioni. Il 10% rimane in capo al gemelli S.P.A. di Roma, che quindi continua ad essere presente come sanità controllata dal Vaticano, nel capitale della nuova società che nasce dall'ex cattolica Molise. Una soluzione auspicata anche dall'arcivescovo Bregantini, che aveva lanciato un accorato appello affinché la Chiesa Cattolica non abbandonasse il suo ruolo nella sanità molisana. Un risultato che ha ribaltato ogni pronostico, infatti i due favoriti per l'acquisto del gemelli Molise erano senza dubbio i colossi Humanitas della famiglia Rocca e Neuromed del gruppo Patriciello. Tutte le offerte si aggiravano intorno ai 30 milioni, ma alla fine ha avuto la meglio la San Stefar di Ercole Core. Ora, dopo l'annuncio della scelta della San Stefar da parte del gemelli, parte la complessa trattativa sui tavoli dei legali che rappresentano venditore ed acquirente per tracciare un percorso e condividere il piano industriale. Il titolare della San Stefar Ercole Core è un medico abruzzese ed è stato per circa 20 anni segretario della Federazione Medicina Generale di Teramo. Da otto anni è l'amministratore del gruppo San Stefar Molise ed è affiancato dal partner Stefano Petracca, originario di Santa Maria di Leuca, da oltre 20 anni impegnato nel campo dell'alta finanza in Svizzera, con un fondo che raccoglie molti operatori finanziari di livello internazionale ed è finalizzato lo sviluppo di nuovi modelli operativi nell'ambito della sanità territoriale ospedaliera. Ho accolto la notizia con soddisfazione, entusiasmo ed emozione, ho onorato di partecipare a un progetto di così grande rilevanza a livello nazionale, ha detto Ercole Core. Siamo riusciti a portare l'attenzione sul Molise da parte di autorevoli investitori, i nostri partner, che hanno creduto in un piano di sviluppo della sanità molisana, sia attraverso il potenziamento della sanità territoriale con San Stefar, sia attraverso il sostegno al settore ospedaliero, collaborando con il Gemelli S.p.A. e con la Fondazione Gemelli. Spero ci saranno sviluppi positivi per i servizi sanitari di altissima qualità, sia nel campo scientifico che della ricerca. Dal canto suo, il partner Stefano Petracca ha già dichiarato che l'attuale management e il Consiglio di amministrazione resteranno invariati.